Ciao! Come avevano previsto Imaia, sono ancora qui nel 2013. Avevano previsto altro. Ricordo benissimo quando ho iniziato a caricare i video. Devo dire che il primo pensiero è stato... una cosa parecchio egocentrica. E subito dopo ho pensato... È perfetto per me! Sì, diciamo la verità, YouTube è un'orgia di egocentrismo perché sei attore, sei regista, sei operatore delle luci, fai il montaggio. Tecnico audio, produci i tuoi video. Fa pure un suggeritore. Come? Ah sì, ringrazio il gobbo. Devo dire che YouTube è stato anche un'esperienza di conoscenza. profonda, conoscenza interiore. Ad esempio ho scoperto di alzare il sopracciglio destro quando trucco l'occhio sinistro. No, il contrario. No. I commenti. Come, come non potrebbero esserci i commenti... ...in un video così. Dopo tanti video tragicomici, pensavo di averli esauriti. Pensavo che ormai non ci fosse più nessuno che mi potesse dare l'ispirazione per un nuovo video tragicomico. Invece no. No. Non mi deludete mai voi. Giulie, nel video della Neve Cosmetics mostri quattro motite. Ebba, no, bosco, melanzana e avorio. Ma di che marca sono? Parliamone. Altra domanda, e questa è relativa al mio trasferimento in Italia, che avverrà online tra pochi mesi. Giulie, spedierai anche la macchina? Non dimenticare che qui... ... Giulie, ma spedierai anche la macchina? Non dimenticare che qui si guida a sinistra. Ed ecco un altro commento molto lusigliero. Nel video si vede la cicatrice del lifting dietro all'orecchio. Non vi posso nascondere nulla! Però adesso, parlando seriamente, non lo so, però ogni tanto ci penso. A una certa età, uno deve valutare cosa vuole. Vuoi essere espressiva o vuoi rimanere giovane? Ormai lo fanno tutti il botox, dai! Forse dovrei provarlo anch'io, no? Poi dicono appunto che dia questa espressione un po' così, no? Immobile, ti congela la faccia. Io non ci credo. Bisognerebbe provarlo. Giuseppe, non so se l'hai notato dalla faccia della mamma. Oggi è una giornata tristissima. Giuseppe, non so che l'avrei capito sui video guardandovi negli occhi. Oggi è raiatissima! Giuseppe, non so che l'avrei capito sui video guardandovi negli occhi. Ma tu non sai che io sono felicissima per te? abituata e mi sento quasi al mio agio quando ricevo degli insulti. Oh, scusi! Grazie, grazie. Ho sentito molto di meglio però, eh? Grazie. Altro commento. Giuliana, ma veramente ti chiami The Light? Ti cognome? E infine, con questa luce angelica alle mie spalle, a parte gli scherzi, voglio dire una cosa in conclusione, anche perché questa è appunto una celebrazione di questi quasi quattro anni. ci tenevo a dire che se sono ancora qui, dopo tutti questi anni è solamente per un motivo, solo uno. Ma quando è che me l'ha data una trasmissione televisiva pure a me? Che è la tua mamma? Tecnico audio, produce i tuoi vidi, i vidi, i vidi, i vidi, i vidi. Ormai è nel mio repertorio. Chiamata Skype, mi stanno chiamando. Ora mi ci faccio vedere così, aspettate. È il mio cugino. Vediamo cosa dice. Oh, Giuliana, ti sei preparata? Ti sembra? Aspetta, fammi pensare. Mary Lynn, dopo che ho preso la scossa. Oh, come? Ma come non riconosci i cuccioli di campagna? L'ipa mia. Oh, siccome, siccome sto facendo il video, salutate. Ciao. Anima mia, una casa tua, ti aspetterò, dovresti odiare queste mura. Ciao, come avevano presi... Ciao, come avevano presi... Ciao, come avevano presi... Ciao, come avevano presi Maya, sono ancora qui nel 2013. Se mi senti? Sì, come avevano presi Maya, sono ancora qui nel 2013. Come avevano presi Maya, sono ancora qui nel 2013. Luigi... Ciao, come avevano presiandi, squatsata, pancani, Grazie a tutti.